Ragazzi, guardate che spettacolo, guardate che spettacolo, belli! L'emergenza sanitaria legata all'epidemia del Covid-19 ha trasformato le nostre vite, ci ha reso prigionieri delle nostre case e tutti più fragili ed esposti, ma nello stesso tempo ha consentito alla natura di riprendersi i suoi spazi, di respirare come non accadeva da decenni. In Campania anche mari solitamente scenari di degrado, come quello napoletano, oggi si mostrano cristallini, uno spettacolo di cui la costiera cilentana ne beneficia da sempre, anche prima dell'arrivo del coronavirus. D'altronde la bellezza della costa cilentana sta consentendo da anni alla regione Campania di salire sui podi nazionali riservati al mare più pulito. Il mare cristallino di questi giorni ha richiamato i delfini lungolitorali dai quali avevano preso le distanze, si sono visti anche a largo di Nisida. Mentre per la costa cilentana la loro presenza non è una novità. In questi giorni un branco di delfini che vediamo in queste immagini si sono esibiti con salti e pirouette davanti ad un peschereccio di sapri a largo del golfo di Policastro. Una bella immagine che ci ricorda quanto è importante la tutela dell'ambiente. Ricordiamocelo anche quando, finita l'emergenza Covid, torneremo alle nostre abitudini. Grazie! 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 Grazie!